Noi qui abbiamo fatto un patto civico, tutti insieme, che consiste nel dire a Vincenzo se vinci, scegli i migliori di questa comunità Umbra per i tuoi assessori. E quindi, secondo me, non è semplicemente un'alternativa, è una terza via per l'Umbria. È una terza via in cui finalmente la politica, le forze politiche, fanno le forze politiche in Consiglio regionale portando avanti le leggi, i provvedimenti, ma l'esecutivo, la Giunta, si compone delle persone, delle eccellenze di questo territorio che conoscono il territorio e che non devono rispondere a nessuno se non a voi che li avete votati. Grazie.